Il nuovo questore della provincia dell'Aquila, il dottor Orazio Danna, si insedierà il 1 agosto. La cerimonia ufficiale prevede la deposizione di una corona d'alloro in ricordo dei caduti della polizia, alla presenza dei funzionari, anche delle specialità, che prestano servizio in tutta la provincia. Poi incontrerà il personale e le rappresentanze sindacali. Originario 10 Reale, laureato in giurisprudenza, ha frequentato il corso di formazione per vicecommissari presso l'Istituto Superiore di Polizia. Subito dopo è stato assegnato al reparto mobile di Milano come comandante della prima compagnia. Successivamente ha avuto l'incarico di vice dirigente della Digos e poi subito promosso primo dirigente della Polizia di Stato nel 2002. Ha frequentato il corso di formazione dirigenziale presso l'Istituto Superiore di Polizia. Il dottor Danna non è nuovo in Abruzzo, infatti ha ricoperto il ruolo di questore della provincia di Chieti già nel 2011.